Buongiorno. Sono venuto a chiedere dei consigli sulla facoltà da scegliere. Come ti chiami? Eh perché io devo dare il mio nome, scusa. Chiedo un consiglio e mi chiede il nome, tutto con questa arroganza. Perché ti devo chiedere e dare il nome? Eh, mica la polizia, è il nome. Eh, Angelo mi chiamo, scrivi Angelo. Bellissimo nome. Eh, grazie. Stai calmo però, scusa. Cosa ti piace? Tutto, professore. Tutto. Natura, piante, animali. Sì, mi piacciono. Ecco. Io tra l'altro vengo dal sud, quindi... A casa c'ho tre cani e un gatto. Beh, allora... È la nonna pure. Benissimo, allora io direi agraria. Mi sembra... Ma perché che faccio il contadino io? No. Cioè io mi iscrivo ad agraria, ma mi è scambiato ora perché vengo dal sud, devo fare il contadino, me ne vado a zappare, me ne vado. No, no, stai... Va bene, agraria no, agraria no. Eh no. Comportamenti umani, ti incuriosisce l'altro. Bellissimo, moltissimo. Per strada ti capita, perfetto. Sì, io sono un osservatore, quando vado in giro guardo... Sociologia, psicologia, vai. Cioè devo fare lo psicologo? Sì. Ma perché che sono pazzo io? No, ho detto... No, a parte che non è... Tutti quelli che fanno psicologia sono uno più pazzo dell'altro. Questo è vero. Io che sono matto. Questo è vero, quindi togliamo psicologia, errore mio, errore mio. Sport. Fai sport, corsa, tennis, calcio. Sì, bellissimo. Isef. Ah, l'isef. E così mi apro la palestra, faccio il ballerino, che sono un ricchione io. Eh? Che ora mi metto a fare i ballerino, il cretino, il cretino che balla. Però ragazzi, se questo è il clima, allora non fare niente. Quindi mi metto... Allora non fare niente, facciamo giusto, non fare nulla, va bene? Niente, nessuna facoltà. Niente. Eh, va bene niente. E che faccio? Nulla. Cioè mi sto a casa? Eh. Non... Sereno. Chiudi, perché chiudi casa, dentro. Basta. Grazie professore. Venta. Arrivederci. Ma mi dovevi scrivere? No, no, no. Stia a casa, buono lì. Ciao.